Tre persone sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver rubato automobili in un periodo compreso tra marzo e luglio di quest'anno. I furti sarebbero avvenuti in Abruzzo, più precisamente nella zona tra Pescara e Montesilvano. Tuttavia, i tre malviventi erano originari di Torre Annunziata e partivano di notte proprio dalla provincia di Napoli per delinquere. Il piano era ben orchestrato. Un'auto regolare veniva infatti utilizzata come apripista in modo da eludere eventuali controlli. A quel punto, una volta individuati, i veicoli li aprivano con delle chiavi elettroniche e ripartivano alla volta della campania. A tradire i tre ladri però sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che sono state di grande aiuto ai carabinieri per l'individuazione delle vetture. Ora i responsabili dovranno rispondere del reato di associazione a delinquere finalizzato al furto d'auto. Attualmente i tre si trovano in custodia cautelare in attesa di convalida del firmo da parte del GIP.